Un altro rap da Evel, Napoli, per farmi ascoltare, un brano che non appartiene alla tradizione popolare ma proviene, nel senso che è stato scritto il spettacolo di Gaudi e aggiungendo, magari, quelle che potevano essere state nel corso degli anni, le varie influenze della musica napoletana. E' una specie di preghiera laica, nella speranza e molto umile della vita. Il nove è più o meno, penso di andare avanti. Grazie. 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 Grazie.